Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che Rossina e Liberto faranno l'amore per la prima volta. Ma prima riassumiamo brevemente cosa sta accadendo nell'ultimo periodo in Spagna. Cayetana e Fabiana dovranno mettere la camicia di forza a Teresa dopo una crisi violenta di nervi. Intanto il nuovo commissario cadrà in depressione per non essere capace di fare niente per aiutare la sua maestrina, mentre Lolita confesserà a Felipe di sapere che sta tradendo la moglie con Huertas. Infine Rosina darà un appuntamento segreto a Liberto mentre Enriqueta farà valere le sue ragioni con Casilda. Gli ultimi spoiler ci rivelano che Mauro scapperà dal commissariato per tornare da Umildad, mentre l'avvocato Hermos darà ospitalità a San Emeterio. Intanto Fabiana capirà che tra Teresa e Cayetana c'è un legame di parentela, mentre Felipe eviterà di vedere Huertas per la felicità di Lolita. Intanto l'avvocato cercherà di riappacificarsi con la moglie, mentre Liberto e Rosina si faranno travolgere dalla passione tanto da fare l'amore sul pavimento della sala da pranzo. Dopodiché i due amanti sopraffatti dalla stanchezza si addormenteranno completamente nudi, mentre Teresa sorprenderà Umilda ad abbandonare la sedia a rotelle. Infine Pazienzia confesserà di aver fatto uno scherzo a Servante, mentre Cayetana si recherà in chiesa a pregare. Dalle puntate spagnole si evince che i vicini di casa scopriranno Liberto e Rosina completamente nudi, tanto che Pablo e Leonor chiederanno una spiegazione a Rosina. Intanto Pazienzia traslocherà in soffitta dopo la discussione con il marito, mentre Casilda cercherà un dialogo con Martin. Infine Felipe darà un appuntamento a Huertas, mentre padre fruttuoso falsificherà il certificato medico di umildad.